il melocotonio è un albero appartenente alla famiglia delle rosacee originario dell'asia minore e della zona del caucaso la droga è costituita principalmente dal frutto il quale contiene composti fenolici come per esempio i fenilpropanoidi tra cui spicca in alta concentrazione l'acido caffè il chinico ritroviamo poi in concentrazioni minori l'alfa tocoferolo i fitosteroli l'acido idrossicinamico e la vitamina c uno studio clinico randomizzato in aperto ha dimostrato che la salsa di melocotonie può essere efficace nelle donne come trattamento dei sintomi della malattia del reflusso gastroesofageo durante la gravidanza in modo paragonabile alla ranitidina della ranitidina ne ho già parlato in un video che vi lascio nelle schede un altro studio clinico randomizzato in doppio cieco condotto su 96 bambini di età compresa tra i 12 e 48 mesi sospettati di soffrire di malattia da reflusso gastroesofageo è stato dimostrato che l'assunzione di sciroppo a base di melocotonie insieme alla ranitidina migliora i sintomi clinici della malattia in modo più marcato rispetto alla sola ranitidina ci sono poi tutta una serie di altri studi scientifici che hanno messo in luce le proprietà del succo di melocotonie per favorire lo svuotamento gastrico e migliorare i sintomi del reflusso senza provocare effetti colaterali in particolare l'assunzione due volte al giorno di 5 millilitri di succo di melocotonie associato a 15 millilitri di acqua permette di favorire lo svuotamento gastrico e ridurre i sintomi del reflusso gastroesofageo dal punto di vista tossicologico non si segnalano particolari effetti colaterali a seguito di utilizzo delle melocotonie tuttavia individui ipersensibili possono sviluppare delle reazioni allergiche i semi contengono cianuro e quindi devono essere evitati sebbene non siano riportate iterazioni farmacologiche il mio consiglio è quello di evitare l'assunzione contemporanea di prodotti a base di melocotonie e farmaci come sempre vi consiglio di sentire il vostro medico il vostro farmacista prima di intraprendere percorsi di integrazione con questa pianta medicinale poiché bisogna analizzare il vostro caso clinico e quindi capire se il melocotonio può essere efficace o meno nella vostra situazione spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi invito a iscrivervi al canale condividere i contenuti e lasciare qualche like se avete delle domande o delle curiosità potete farmele nei commenti oppure scrivermi a info chiocciola voxalcorporation.com e noi ci vediamo al prossimo video